Continua l'azione di contrasto dei carabinieri della compagnia di Fano agli spacciatori della movida estiva. Dopo l'arresto di domenica scorsa del 22enne romano, a finire in manette è stato un 33enne albanese disoccupato con piccoli precedenti da tutti conosciuto come Tani l'albanese del Lido. L'uomo, anche in questo caso aderendo ai gruppi Whatsapp utili a fornire una rete di allarme circa la presenza delle forze di polizia, si sentiva protetto ma il soccorso social non è stato sufficiente ad evitargli l'arresto. I carabinieri del nucleo operativo della stazione di Fano erano giorni che lo tenevano sotto controllo lui e la sua abitazione. Oltre ai Whatsapp lo spacciatore utilizzava un altro stratagemma camminando sempre vicino all'argine nel porto canale, pronto a disfarsi dello stupefacente in caso di controllo. La scorsa sera Tani è stato visto uscire di casa e raggiungere un'auto con a bordo una 38enne fanese. Non appena lo spacciatore ha raggiunto il finestrino dell'auto i carabinieri lo hanno bloccato e trovato in possesso della classica pallina di cocaina da 8 grammi confezionata nel cellofan termosaldato. Dopo una curata perquisizione dell'abitazione di Tani i militari hanno rinvenuto abilmente occultate altre tre dosi di cocaina già pronte per lo spaccio ed un altro involucro contenente cocaina ancora da tagliare del peso di 10 grammi. Oltre a buste di cellofan con i classici ritagli circolari, una bilancina di precisione e 1300 euro in banconote di piccolo taglio che lo spacciatore disoccupato non ha saputo giustificarne la provenienza. Dopo una notte trascorso nelle camere di sicurezza il 33enne albanese è stato giudicato con rito per direttissima dal giudice del tribunale di Pesaro che oltre a convalidarne l'arresto lo ha condannato alla pena di otto mesi di reclusioni e lo ha rimesso in libertà perché ritenuto non pericoloso. Sarà analizzata da parte degli esperti informatici dell'arma anche la posizione degli amministratori dei numerosi gruppi whatsapp in voga tra giovani e meno giovani utilizzati per segnalare la presenza di forze di polizia valutando anche eventuali profili di concorso nel reato.